Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come La vita privata di Tommaso Trussardi è finita al centro del mirino per l'ennesima volta Retroscena clamoroso, cosa sta succedendo? 39 anni di Bergamo, imprenditore del settore moda, Tommaso Trussardi è conosciuto non solo per la sua carriera e il suo fascino, ma anche per la sua lunga relazione con Michelle Hunziker Sua moglie per più di 10 anni, i due sono si sposati il 10 ottobre 2014, per poi dare alla luce le figlie sole e celeste, formando per molto tempo una delle coppie più amate dello spettacolo, poi l'amaro addio nel gennaio 2022, capace di catalizzare il gossip per mesi Un addio sofferto che sembra essere determinato da incomprensioni insuperabili Separatisi, Michelle ha frequentato per un periodo il chirurgo Giovanni Angiolini, ex geffino, con cui è scoppiata la passione, una frequentazione durata tuttavia solo 5 mesi Tra i due è già tutto finito. Emerge, intanto, un colpo di scena inaspettato sulla vita privata di Trussardi Tommaso Trussardi, perso di lei, clamoroso retroscena.Dopo che per mesi Michelle e Trussardi sono stati nel mirino mediatico, dopo tanto clamore, emerge un retroscena sconvolgente In queste settimane è stato ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due ex, secondo alcune indiscrezioni Tommaso avrebbe passato una notte a casa della showgirl svizzera Per alcuni ad aver determinato questo riavvicinamento la gravidanza di Aurora Ramazzotti che avrebbe portato la Hunziker, presto nonna per la prima volta, a vedere le cose da un'angolatura diversa, ragionando su come il vero amore sia indistruttibile Nessuna conferma è arrivata tuttavia dai diretti interessati, un'altra figura femminile sembra aver lasciato il segno nella vita dell'imprenditore Tommaso Trussardi, dolci momenti con lei.Quest' estate Trussardi è stato pizzicato in dolce compagnia e la cosa non è passata inosservata Il 39enne ha trascorso del tempo con l'imprenditrice Rudvana Bashir e non sono mancate voci su una possibile leson tra i due Tra indiscrezioni e rumors, una certezza nella vita di Tommaso c'è, le sue figlie Un recente scatto condiviso dall'imprenditore al fianco della figlia Celestene è la prova. I fan si sono sciolti nell'immediato alla vista della tenera visione È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento al post che ha scatenato subito un tripudio di cuori e complimenti Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video